Finalmente ieri mattina è iniziata la bonifica delle zone dove sono situate le carcasse di 5 auto risalenti agli anni 70 e 80. L'opera, visto la zona impervia, ad oggi ancora non è stata completata, ma la ditta incaricata tornerà per chiudere il lavoro. Lo fa sapere la guida escursionistica e volontario Danilo Palmieri. L'operazione di bonifica sul Monte Tresino si sarebbe dovuta svolgere già un mese fa, ma a causa di impegni imprevisti da parte della ditta incaricata, l'operazione è stata più volte rimandata. L'ente comunale di Castellabate nel tempo ha raccolto diverse segnalazioni in merito alla presenza di automobili anche da parte di diversi cittadini, oltre che alla guida escursionistica Danilo Palmieri, sempre attenta a Sentinella per la manutenzione dei sentieri naturalistici del territorio del Cilento. Con il recupero e lo smaltimento di questi rifiuti speciali si andrà a risolvere un grosso problema ambientale che riguarda il decoro di una delle aree verdi più belle ed incontaminate del territorio cilentano. L'ente comunale già nei mesi scorsi avviò le operazioni di pulizia straordinaria recuperando un camper abbandonato nella vegetazione, ieri la rimozione di una delle cinque auto presenti.